signori benvenuti e bentornati in questo fantastico nuovo episodio di leggiamo a cose su rainbow six siege oggi andremo a reggire benjamaster con un titolo tubarau is to op in tubarau è tanto tanto ma tanto op fortissimo ovviamente ragazzi prima di canzone mi piace un commento in iscrizione vi ricordo che ho aperto un secondo canale si amare si per secondo le cv2 comunque in descrizione trate il link dove porto solo fortnite quindi se vi piace fortnite e volete vederlo da me andate sul secondo canale e iscrivetevi se non seguite fortnite non iscrivetevi perché è inutile porto solo fortnite in momento ok andiamo col video 3 2 1 let's go allora aumentiamo volume al massimo tubarau is o op e parte la clip con solis speriamo che userà tubarau ovviamente ragazzi farà vedere una clip assurda con tubarau vi ricordo che benjamaster ragazzi ha vinto un major fortissimo nei g2 bla 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 ah no forse no in teoria nei g2 ora c'è scritto m80 quindi ha cambiato team o è una clip vecchia nei commenti fatemi sapere perché voi siete più informati di me per quanto riguarda il competitive fatemi capire un attimo se ha cambiato team o sono clip vecchie sta ancora nei g2 allora lui sta continuando a uscire da da vip cioè scusate che cazzo dico pit da da guitar sono 4 v2 c'è è stato un round osceno cioè c'era lui ragazzi che ronautava a destra a sinistra senza senso vediamo sta ancora in quella partita è 6 1 1 sta facendo il devasto assurdo la cosa bella ragazzi che non sta mai usando l'abilità cioè sta giocando team deathmatch senza abilità mamma mia ragazzi quanto cazzo è bravo cioè è veramente osceno allora con capcan la clip con tubarau ragazzi ce la fa sudare ancora non è uscito tubarau bella kill complimenti è scoppiato uno con una capcan con varie capcan ed è pure noccato ma mi sa che c'era un altro stato bravo piccara abbassato madonna che ha sentito un mezzo passo e ha cominciato a sparare alla capita o a lui sta capita col due per oh mio dio che brutto io ragazzi due per non riesco a usare oh my god c'è lui veramente vuole piccare così ha avuto ha avuto pure fortuna questo pic ragazzi se il buco lo distrugge ma beh che c'è mountain che beta in teoria c'è mountain quindi sta dando tutte le info possibili ed è davanti a lui e va mai ragazzi però sta facendo perdere molto tempo allora ha fatto perdere molto tempo ma immaginatevi ragazzi avere questo team contro con mountain che vi entra da cat e questi che vi pushano con sta mira c'è veramente devastante e poi c'è la cosa ragazzi che lui picca sempre senza mirare c'è una cosa che non capisco se è giusto c'è se è buono o no farlo oh my god mi sta facendo ragazzi c'è mi sa che si fa ace 4 kill sicuro oh no ha missato ha missato ha beh che in teoria dovrebbe essere vinto perché non c'è tempo madonna ragazzi li ha devastati palesemente è devastato eh ma mi sa che è quel mi sa che è quel drone bugato che non si può rompere madonna mamma mia fra sto pic ragazzi mamma mia che schifo cioè tu vedi tutto e in teoria in teoria neanche stai uscendo cioè sei ancora nel pieno rotolo dentro cioè raga non ha senso è strano che ha piccato pure di merda ha piccato veramente pure di merda io sinceramente rientrerei perché cioè va bene io mi faccio i cazzi miei non parlo più va bene comunque ragazzi io non so che di che anno siano ste clip però ogni clip questo cambia nome era negli m80 poi negli g2 ora negli 1 up allaghi eh tubarau ragazzi con il dmr e tanta roba il dmr ragazzi se c'hai una mira assurda e op perché se non sbaglio l'aveva 54 quindi con due colpi muori mamma mia poi se lui prende pure in testa capite un attimo che raddoppia il danno eh 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 ad avercelo in team raga un fragger così si è fatto già 3 kill continua raga continua fa sta cosa e le persone ci cascano sempre ce l'aveva fatto già allora io non so se è la stessa partita no spero di no perché cacchio ma io non l'ha messo il muzzle ah si l'ha messo il muzzle ah il coso come si chiama va a destra a sinistra va bene ragazze stanno andando over loro cioè lui è fortissimo però un po' troppo over ci stanno andando ma li ammazza così veramente tanta roba raga tanta roba porco tu è una bestia proprio un fenomeno secondo me sta giocando con full pro player compagni cioè amici e comunque cioè penso stanno perdendo 1 a 3 raga cioè perdere 1 a 3 vuol dire che gli avversari sa proprio farlo ah ma c'è uno dei makers con loro what the fuck c'è uno dei makers ragazzi questo punto makers mamma mia quanto ha rischiato ragazzi ha fatto team kill quello buono perché raga se non sbaglio due dei makers non sono italiani ora non sono molto informato sul team e sports perché tutto è cambiato pippo baudo che raga sta giocando contro pippo baudo ecco perché sta perdendo 1 a 3 cioè come fai a vince contro pippo baudo anzi non so come facciano a sta 4-3 allora uno è full rampellato fuori bravo ah mi sa che con lì contro raga sono tutti in team perché drago pippo baudo quindi potevano stare in team full è 1v4 1v3 1v2 ha 4 colpi 1v1 ok allora c'è da dire che l'arma di legion ragazzi è OP molto OP lui OP di suo quindi è OP per 2 come fa l'avversario a vincere però lui è pingato da jackal giacomo diciamo che sta facendo il suo continua a essere pingato perché mi sa che l'ha preso con rosso quindi so tre ping ma comunque la mira di benjamaster non la puoi battere niente ragazzi questo era benjamaster eeeh gg's eeeh sì che